salve a tutti da enjoy viaticus ci troviamo a riga capitale della lettonia è pieno inverno fa molto freddo una città veramente bellissima ben collegata tra l'altro dall'italia ci troviamo in mazza pils jela una piccola via vicinissima tra l'altro a piazza del municipio al duomo al centro e per farvi vedere una curiosa costruzione è il complesso residenziale più antico di tutta la città i numeri 17 19 e 21 di questa via sono tre palazzi molto simili noti come i tre fratelli il numero 17 è il più antico di tutta la lettonia risale al 400 al numero 19 c'è il museo dell'architettura e il 21 invece risale al 1600 è un complesso molto curioso sicuramente molto interessante che fa parte delle cose da vedere per chi arriva qui in questa bellissima città capitale della lettonia che ricordiamo sta metà strada fra tallin a nord e villius al sud molto spesso associata infatti a queste due città ma già di per sé riga per un weekend pochi giorni è sicuramente una meta di tutto rispetto da considerare nei vostri itinerari anche perché molto spesso è possibile arrivare qui con voli lo costa quindi riga i tre fratelli centro storico che patrimonio dell'umanità dell'unesco sicuramente una meta da visitare che in gioviatico se vi consiglia e che pronto in gioviatico se pronta a descrivervi e a darvi poi tutte le informazioni per poter venire qui e vivere al meglio l'esperienza di un viaggio a riga contattateci seguiteci sui nostri canali in radio su youtube e su tutti i nostri siti grazie a tutti